è difficile giusto? vai via! non lo so! no ma ti stutte la scarpa! oh 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 davide davide trappola 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 trappola! aprite questa cazzo di porta! aspetta aspetta! aprite questa cazzo di porta! no 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 la scarpa non la scarpa no! che culo che culo però sai così mi piace di più il fatto che tu non sia non sia mai sicuro che non ci sono più trappole in una stanza te la devi aspettare un po' no ma ve l'ho detto secondo me mio parere alcune trappole che scattano solo quando tutta la squadra è dentro no secondo me ci sono diversi trigger in realtà ci sono diverse cose che le cause scatenanti secondo me sì perché intanto alcune scattano solo se cammini sul centro attenzione quindi altre scattano su appena entri secondo me dipende perché quelle che però se tu fai caso quelle che scattano quando sei già dentro da un po' però ti darebbero il tempo di uscire solo che ti fai prendere dal panico e c'è un cerebro questa è verde oddio però questa è rossa oddio trappola trappola no sono rimasto dentro sono rimasto dentro oh fuggi shock no oh ragazzi morto? sì abbiamo un'altra scarpa oddio l'ansia 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 ragazzo di gioco di merda aiuto vai tiro io che cos'è sto rumore? laser laser potevo andare a riprenderla qual laser? potevo andare a riprendere la scarpa vai dai entro e corri entro e corri ma sta fungia no no forse riusciamo a riprenderla ah sì 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 questi qua si se non ne parte un'altra no no vai vai tranquillo siamo con te facci sapere andiamo Lino Davide è perso aspettate aspettate questa tanta aveva una trappola? non lo so Davide questa dove siamo noi sì questa dove siamo noi adesso ok quindi se accanto ne abbiamo una verde significa che tutte le altre che accanto non ha trappole sì quindi tanto quella lì è adiacente a quella verde quella lì per probabilità questa qua non dovrebbe avere trappole no? quale? dovrebbe? dove siamo ora? questa qua no quella di fianco questa qua cosa mi ero dimenticato che si poteva correre ok no qui non c'è nulla ragazzi ne di qua ah qua c'è il cerebroleso un'altra verde ecco adesso comincia però mi sa di trappola perché vedo delle robe che volano quando ci sono le robe che volano solitamente è quando c'è il tritari è stato lanciarne uno al centro ecco merda ne abbiamo lanciato due aspetta aspetta vediamo se parte magari se li giriamo intorno ma perché allora non so che c'è il risocchio però sì sì no no vieni preso vieni preso vieni preso se vai io non ero riuscito a scappare niente dai ragazzi siamo dall'altra parte però la cosa buona dall'altra parte la cosa buona ok aspetta aspetta dobbiamo recuperare una scarpa ah questa è verde va sì sì qua sono giunti questa ah ok aspettate ripresa dove siete? in che stanza siete? questa a 8 che cazzo che cazzo quale 8? a 8 a 8 a 8 a 8 benvenuto professore non so se avete colto l'eccitazione sì cerebro uscita? no non è l'uscita solo che ci dobbiamo passare per forza ragazzi no eh sì perché perché di qua cosa c'è? secondo me questa qua forse riesce a prendere ah no proprio no 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 non è possibile allora qua moriamo solo se veniamo colpiti giusto? vado io no se la calpestiamo no ok sono un pianino quanto coraggio però ragazzi qualcuno si vuole forza criticare porca troia no cos'è 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 stato? cos'è stato? no no sei morto? sì sì eh ma a me quello con le motoseghe non mi fa mica paura Davide? Davide? dimmi abbiamo due possibilità o sederci piangere fino alla morte ma se proviamo quello lì col tritare i fiuti? no invece è riandato nella camera a sinistra perché lì ormai non c'è più nessuno visto che mi ha ammazzato apri Davide ti conviene cazzo no 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 vabbè Davide trova la via di uscita ok trova questa porta dietro di te no cazzo bravo Davide complimenti no lancia una scarpa Davide c'è una mia scarpa lì dove sta passando il bomb ci pensate nella realtà quanto bisognerebbe spendere per mantenere una struttura del genere? no ma se ci fai un reality show ma in realtà c'è un gioco un gioco dal vivo che si può fare non ricordo come si chiama via 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 Davide via 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 Davide orca troia madonna minchia ti ho visto male e mi ricordo mi dimentico sempre che si può correre anche gli lati in questo gioco comunque dicevo una spezzone del gioco a cui mi riferisco che è tipo solo enigmista però dal vivo allora questo è un giallo c'è probabilità che che trovi Jessica ci sia ok e le conoscenze che fanno una Shissor Sister ok schifo quindi una di queste stanze una di queste stanze e d'assassino O tutte e due, come nel Assassino sull'Oriente Express Questa ce l'ha, questa ce l'ha Oh, raggio congelante Immaginate alla fine di questo percorso Troviamo il Maggiordone Attenti, attenti, attenti Questo scoppio, questo scoppio Ok, finito Madonna Però quella è verde Ha sicuramente una trappola Però poi ne ha solo una, guarda che colore era Gialla Gialla, allora Però una trappola è fia scattata Là dentro? Eh, quindi ci conviene andare qua dentro Eh, però sai, può essercene più di una Ecco Non ho male che non siamo andati lì Questa è gialla, significa che due attornano Le trappole, c'era laser e questa Ok Quell'altra era verde Ah, quindi Cazzo, questa è rossa Però questa è rossa poi Eh Quella E gialla In teoria Sì Dobbiamo andare in questa È stata la pratica che vi ha rovinato Quanto siamo? 15 C'è meno Qua siamo metà Attenti, attenti, attenti Attenti, attenti No, no, ma figa di troia Ma prenditela con lui Ma perché? Bella amicizia Bella amicizia No, cazzo Questa è rosa Questa è rosa Cazzo Non l'abbiamo calcolato Ma io non starei al centro Visto che non abbiamo buttato una scarpa qua Io aprirei la prima porta e fuggire No, ma fatti Ne fa colare la quella da cui siamo venuti Scappa, attento Scappa Porca troia Per un pelo Buttala al centro Porca troia Ma questa Eh no, è scoppiata Dobbiamo andare di qua Avete finito le zampogne No, io andrei di qua No Va via, va via, va via, va via Niente Dai, Davide Segui Palvio, va che meglio Salve, signor cannone di fuoco Come ti sembra, Davide? Senti salda? Si muove qualcosa Non c'è che qua che... Ora siete nella merda però Perché non avete più scarpe Oh, cazzo No, via, 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 via Eh no, dovete passare per forza Cioè, ci dovete passare per forza Vedi, Davide Quando sei passato tu Si è scattata Finché non siamo tutti dentro Che figlio di troia Eh, avremmo potuto portare il marshmallow Prendiamo con quello che è rimasto Non tocca sana contro le... Contro le zanzare sta roba qua Già, quasi quasi la vorresti a casa Sì, anche con le... Le grate laser Davide, prossimi... Vabbè, buttiamoci, Davide Forse qui la minimappa ci sarebbe servita C'è il mononeurone Ah, qui verde, verde Ok Quindi, in teoria Qui al centro non dovrebbe esserci nessuna trappola In teoria potrebbe Però è molto improbabile, diciamo No, perché se c'è una verde di là E la verde ce l'ha già Una collegata con la trappola Quindi, in teoria, questa è sicura Aspetta, aspetta Seguitemi nel mio ragionamento Grazie a tutti